ciao a tutti oggi siamo finalmente live alla grande siamo io insieme ovviamente alla mia band immaginaria immaginaria se qualcuno non capisse bene la situazione praticamente sono io che mi sto moltiplicando comunque vado subito a presentarvi gli elementi della mia tanto live intendo che tutto quello che suoneremo verrà registrato in ripresa allora io mi chiamo Paolo e suono la batteria accanto a me potete vedere il mio chitarrista chitarrista da accompagnamento lui si chiama Paolo ciao a tutti alla grande ok dopo di lui andiamo appunto al pianista numero uno che si chiama Paolo ciao a tutti è un piacere come sempre per ultimo quello un po più scorbutico a chiudere appunto le presentazioni lui chitarra solista si chiama Paolo io non vi saluto perché mi state tutti sui coglioni simpatico come sempre va bene allora cominciamo oggi vi presentiamo appunto un brano faremo appunto un anteprima vi facciamo ascoltare pezzettino don't cry dei guns and roses ok quindi partiamo senza metronomo senza alla cazzo così come viene improvvisiamo e vi regaliamo questo brano si però buon divertimento andiamo eh dai muoviamoci guarda che devi partire te eh se non te ne sei ancora accorto sempre così dai il tempo scorsi andiamo c'è ragione anche te dai allora dai si affanculo and 1 2 3 musica 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 Spero vi sia piaciuto questo video e io insieme alla mia band immaginaria vi salutiamo e ci vedremo presto con nuove basi o comunque con il sistema che vi ho annunciato ieri ciao a tutti ciao a tutti ciao